I castori di Ciprocriti, che vanno tutte le domeniche a Messa e poi non pagano la tredicesima, ti pagano in nero, sfruttano la gente, poi vanno al Caraibi, non solo a Papers, ma a fare le vacanze, ecco lo sfruttamento della gente, io sono cattolico, vado tutte le domeniche a Messa, se tu fai questo, tu dai una controtestimonianza, e questo è a mio parere quello che allontana più la gente della Chiesa. Anche i laici, tutti, io direi, ma non dì che sei un cattolico se non dai testimonianza, dì, io sono di educazione cattolica, ma sono tiepido, sono mondano, chiedo scusa, non guardate il mio amico come modello, questo si deve dire, ma io ho paura dei cattolici così, che si credono perfetti, ma la storia si ripete, lo stesso Gesù con i dottori della legge, no? Ti ringrazio signore perché non sono come questo, povero peccatore, no? Questa è la mancanza dei testimonianzi, ce ne sono altre difficoltà personali, avesse, a volte, ma il più generale è quella. È stato bello, le rivolge ora.